buongiorno benvenuti a questa nuova video analisi forex siamo al 10 maggio 2017 abbiamo cominciato la giornata durante la notte è arrivata questa notizia bomba dagli stati uniti con scusate che a you are fired si è licenziato al niente po po di meno che al direttore dell'fbi quel direttore fbi che è stato protagonista di tutta la campagna elettorale anche dopo la vittoria di trump perché durante la campagna elettorale quello che indagava sulla clinton l'email della lo scandalo dell'email della clinton e lo stesso signore se ricordate bene una settimana circa dal voto delle elezioni americane a novembre inizio novembre quel venerdì sera rivoluzionano tutti i mercati che disse proprio all'ultimo metà pochi giorni dalla votazione che erano uscite nuove email relative alla clinton ebbene adesso trump lo ha licenziato la seconda volta che accade nella storia degli stati uniti stava indagando il direttore delle fbi sui rapporti appunto sull'influenza l'incidenza della russia sul voto sulla elezione di presidente trump trump la giustificazione è stata quella di ridare fiducia credibilità l'fbi con la rimozione di appunto direttore proprio alla vigilia del giorno in cui oggi si incontra con l'apro il ministro degli esteri russo che lì a washington incontrare lui mister t quindi proprio incredibile oggi parlavo nella video analysis intermarket si aggirano i fantasmi del 1973 quando nixon l'allora presidente nixon watergate lui all'epoca mandò via un procuratore indipendente il segretario giustizia praticamente il ministro della giustizia suo vice che stavano indagando sul watergate che poi l'hanno portato alle dimissioni insomma quindi tutto questo adesso ci crea un po di smarrimento perché già da quando è stato eletto trump si è parlato di bookmakers hanno già le quote su un possibile impeachment relativo a lui a mister t ora questo non fa che alimentare ancora di più dubbi chissà quanto durerà o meno trampe e quindi immaginate che cosa potrebbe accadere però per il momento è solo una scossa che è arrivata sui mercati vedremo 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 se ci saranno ulteriori conseguenze o meno perché comunque è pesante pesante come l'atto l'azione insomma di mandare via il direttore dell'fbi questa la storia insomma non ci sono dati macroeconomici questa settimana abbastanza rilevanti quindi mercati che oramai dollaro orientato verso il rialzo dei tassi a giugno mercato oramai lo da quasi quasi per scontato in base all'andamento dei future sui fed funds ce ne sarà anche un altro altre dichiarazioni a proposito è stato fatto uno studio che come non mai in questo periodo in questi mesi stanno arrivando dichiarazioni dai membri della fed parlano troppo parlano troppo e spesso disorientano gli investitori mamma mia quanto parlano quelli della fed insomma attenzione cominciamo a vedere un po di grafici perché ci sono delle novità interessanti a cominciare dal eccomi qua dall'euro dollaro guardatela guardate lì candela rossa questa qui ai chinasci siamo arrivati quindi a 1 e 10 si è fermato il treno rialzista con post voto già dal 23 aprile giorno successivo il primo turno delle elezioni francese poi domenica scorsa con la conferma di macron presidente della francia siete stati uniti scusate lo scusa presente la francia quindi vedete il massimo toccato nella finestra mettete a tutto schermo eventualmente se non riuscite a leggere bene 1 10 25 1 10 si è rivelato ancora volta un livello duro 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 da buttare giù infatti se estendiamo stendiamo facciamo uno zoom vediamo che effettivamente da queste parti come resistenza o come supporto in passato già ha dato prova di essere un livello graficamente interessante ma lo strumento con cui è correlato inversamente solitamente se sale uno scende l'altro non in maniera automatica è il dollar franco svizzero che già aveva anticipato con una seduta prima rispetto all'euro dollaro perché il 8 maggio c'era stata la candela verde sul supporto di riferimento 0 98 e 58 siamo già arrivati qui sulla resistenza 1 0 0 9 la resistenza da dove con questa candela rossa lo scorso 12 aprile si è arrivati su questo porto 0 98 e 58 siamo ritornati a 1 0 9 vedete come in questo momento è un trend in range decisamente chiaro e evidente come sono bellissimi questi tappeti rossi e verdi ai kinashi però attenzione perché lo stesso aiuto che ci dà le kinashi in questo momento è verde non siamo su un livello dove proprio recentemente a 12 aprile un mese fa circa c'era stata poi questa flessione ma adesso il grafico ai kinashi dice fermi tutti se state pensando di speculare a ribasso perché il semaforo è ancora verde non per rialzo ma non semaforo verde a ribasso quindi con candela rossa eventualmente livelli successivi da monitorare il famosissimo famosissimo 1 0 3 per il dollaro franco svizzero che è praticamente se andiamo a vedere il grafico dell'euro dollaro 1 0 3 9 1 0 4 ma potrebbe essere il livello che prima andavano in simbiosi abbastanza vicini adesso l'euro ha fatto più strada al rialzo soprattutto per il voto francese che quindi ha scongiurato il pericolo madame le pen frexit quindi per il momento l'euro ha fatto più strada decisamente al rialzo quindi mentre prima sembravano vicini che potessero testare entrambi così le 1 0 4 1 0 3 per quanto riguarda il dollaro franco svizzero c'è invece il dollaro yen che non conosce sosta guardate lì che trend a rialzo sale a prescindere da tutto già ho parlato la settimana scorsa nella video analisi in cui dicevo attenzione i messaggi che mi manda il mercato qui il messaggio che ci mandano è che è solo un trend a rialzo a prescindere dati macro dall'andamento di wall street l'indice nick e di tokyo con cui è correlato intermarket in maniera positiva mediamente se sale wall street l'indice nick e sale anche il dollaro yen e viceversa di solito e niente si sale si sale stiamo qui oramai si comincia a vedere in alto il livello 115 ma anche qui con una candela rossa non è neanche detto che la candela rossa sia garanzia di successo quindi in questo caso di un'inversione come è accaduta lì al ribasso intanto aspettiamolo adesso è 114 per il momento si è preso una pausa forza caffè o qualcosa di più lungo un pranzo una cena che ne so matrimonio una prima comunione che si festeggia qualcosa da quelle parti per il momento un sorso di caffè verso 114 vedremo se arriverà qui più in alto a 115 dopo 115 siano i top assoluti proprio quelli toccati 118 con l'elezione di lui mister t quindi vedremo vedremo per il momento trend tutto decisamente al rialzo poi altre situazioni la sterlina che aspetta domani super giovedì super thursday così come viene chiamato in inglese perché domani alle ore 13 c'è il meeting della bank of ingland dove non sono attesa variazione dei tassi di interesse ma soprattutto l'inflation report l'inflation report sull'inflazione con l'inflazione che li galoppa in gran bretagna e se sale troppo la banca centrale inglese si vede costretta a dover alzare i tassi di interesse quindi vedere quali sono le proiezioni stime tutto quello che verranno le notizie dall'inflation report e di conseguenza probabilmente forse sarà quello che darà l'exploit finale per un ulteriore strappo al rialzo che così come potete vedere su questo grafico siamo su quella zona già violata in teoria di ex supporto 1 29 51 1 e 30 ancora è lì che sta solleticando praticamente poi più in alto nel prossimo livello è 1 34 quello di 1 34 e 15 per quanto riguarda sterlina contro dollaro e sapete che 8 giugno si vota anche lì nel regno unito oltre che 11 e poi la domenica successiva anche in francia il parlamento quindi bisogna vedere adesso che maggioranza che tipo di maggioranza avrà con cui dovrà fare i conti macron insomma quindi questa situazione abbiamo visto euro dollaro dollaro franco smizzero dollaro yen sterlina dollaro facciamo un salto sulle materie prime così poi andiamo a vedere anche le commodity currency c'è un petrolio questo è un grafico aggiornato a ieri daily resta una debolezza oggi sono attesi dati sulle scorte di petrolio candele rosse che sono diventate più piccole c'è una certa voglia di rimbalzo però ancora il grafico è chi nasce e tuttora oggi non si vede a volte sì a volte no il verde però meglio aspettare conferma gold anche qui in grafico daily aggiornato a ieri prosegue la discesa ormai si comincia a vedere in basso il supporto 1200 in questo momento siamo al 1223 praticamente sul prezzo di chiusura di ieri risk on propensione al rischio vendita quindi sia come risk off quindi nel senso che risk on scusate quindi perché quando è risk off volevo dire gold tende a salire bene rifugio per eccellenza quando c'è avversione al rischio e qui c'è anche un discorso di rafforzamento del dollaro perché se riuscite a leggere qui da quella parte i sa usd gold quotato in dollari così come anche il petrolio è quotato in dollari andiamo a vedere le materie prime quindi la situazione c'è un australiano dove ieri è stato pubblicato il budget annuale che prevede tra un tra qualche anno si prevede un avanzo surplus dopo tanti anni di deficit e questo sembra scongiurare un pericolo di perdita tripla l'australia è un di quei pochi paesi che godono ancora del rating 3 a a a a graficamente ha rotto il supporto 0 74 69 c'è un problema immobiliare non indifferente è inerso anche dal ieri e si sta cercando in tutti i modi rendere accessi i prezzi di casa sono arrivati altissime pensate che in australia che cosa fanno comprano casa fanno i mutui la rata loro anche se non riescono presente a pagare poi mettono in affitto le case ipotizziamo di pagare 500 euro al mese di rata mettono in affitto 400 euro la differenza la perdita quei 100 euro il sistema prevede in australia puoi detrarle dalle tasse quindi lo vedono come un investimento quindi comprano case anche se non sono possono permettere perché poi le affittano insomma c'è tutta una situazione molto particolare peculiare per quanto riguarda l'australia ho letto oggi un articolo riguardo davvero molto molto interessante quindi per il momento si va giù graficamente resta questa impostazione al ribasso invece c'è un neozelandese al rialzo il supporto 0 68 72 è stato fantastico arretto arretto a tutti alle attacchi che ci sono stati vedete qui un'artiglieria pesante ma ce l'ha fatta il neozelandese addirittura oggi sta confermando una nuova verde però fermi tutti perché oggi ore 23 c'è il meeting sulla banca della banca proprio centrale neozelandese un'ora più tardi poi conferenza stampa e alle 3 durante la notte ancora un intervento del governatore della banca centrale del neozelanda quindi fate molta attenzione togliendo il dollaro dall'australiano e dal neozelandese il kiwi come anche viene chiamato ovvero andando a vedere proprio i rapporti forza audi nz di siamo tornati siamo oramai anche sotto quello che il livello 1 0 65 da dove qui con questa candela verde il 21 aprile c'è stato rialzo fino a 1 0 9 poi tornato giù e adesso ecco il bello delle chi nasce che dice fermo 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 se stavi pensando pensavi che potessi rivedere il film che hai visto qui non è così si sta andando più giù e ora vedremo se avrà la forza per scendere 1 e 38 in questo caso cosa ci dice questo cross i cross sono quelli dove non è è presente il dollaro l'australiano un neozelandese più forte dell'australiano quindi vedremo se avrà ulteriore un ulteriore spinta rialzo neozelandese che si traduce in un ribasso audi nz di con il meeting di oggi che ci sarà questa notte durante la sessione asiatica quindi per quanto riguarda la banca centrale neozelandese usd cad a sua volta che correlato inversamente con il petrolio ha disegnato una verde quindi questa rossa questa rossa anzi sia tra il 5 fine settimana scorsa e lunedì 8 sembrava questa rossa e mettere essere la premessa per un rimbalzo del petrolio che abbiamo visto su un supporto invece no tornata alla verde resta ancora l'impostazione 137 52 che voleva speculare su questa rossa questa verde ci dice che forse puoi chiudere per il momento aspetti una nuova rossa per tornare short oppure puoi già cominciare a costruire una posizione a rialzo aspettare e rafforzarla se rompe la resistenza 137 52 che è un livello andiamo a vedere qui non era proprio un mega 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 bisogna andare proprio indietro nel tempo recentemente anche perché oramai era da parecchio che non si arrivava da questi livelli più di un anno fa e quindi usd cad il fatto che stia ha confermato ieri una verde fa pensare che effettivamente il petrolio ancora la corsa al ribasso del petrolio non si è esaurita quindi potrebbe ancora tornare giusticato a salire e il petrolio al ribasso poi ne ho parlato anche nell'analisi on demand ci sono alcune situazioni ci sono formate delle candele verdi sull'australiano contro franco svizzero che è su un livello guardate dove ci troviamo che cosa non lo so guardate lì che che livello è un supporto fantastico però attenzione perché l'australiano contro franco svizzero quindi qui se sale vuol dire che può salire per effetto l'australiano contro franco svizzero e questo è è matematico non come le correlazioni che a volte ci sono e a volte saltano e in matematico la quotazione di australiano contro franco svizzero dipende dai rapporti forza australiano contro dollaro e dollaro contro franco svizzero abbiamo visto che dollaro franco svizzero ha già fatto una bella strada rialzo se no non avremmo visto questo in verde che si è confermata sul grafico audi chf però c'è la debolezza dell'australiano quindi se voi credete che l'australiano è destinato a venire più giù rispetto a un possibile rialzo del dollaro contro franco svizzero questa verde che vedete su audi chf la ignorate per almeno per il momento se invece credete che dollaro franco svizzero sarà più forte il momento a rialzo del dollaro franco svizzero piuttosto che il ribasso di australiano contro dollaro e allora potrebbe essere interessante però come sempre contestualizzare il tutto come vedete il livello è fantaiso non saprei come altrimenti definirlo era anche qui una bella è stata guardate il supporto supporto resistenza 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 e poi nell'ultimo periodo praticamente da qui da agosto 2016 è il pavimento dove boom boom più volte ha provato andare oltre niente da qui non si passa e danni che sempre agosto praticamente da agosto 2016 ha sempre rimbalzato però non è garanzia di successo per il futuro dipende dai rapporti dell'australiano contro il franco svizzero c'è un euro yen giusto per concludere mamma mia guardate dove è arrivato che striscia verde tappeto verde ai kinashi per non ci vogliamo mettere la sterlina yen la bestia così come la usavamo definire in una sala gestioni incredibile incredibile cioè se prendiamo il prezzo di apertura successivo a questa verde del 18 aprile giusto così per divertirci un po 139 quasi mille pips e li fa tranquillamente a salire e a scendere guardate qui assolutamente attenzione attenzione gioie e dolori sterlina yen perché se si è dalla parte giusta si festeggia la grande però allo stesso modo se si è dalla parte sbagliata si rischia di prendersi in faccia delle perdite notevoli trump fires fbi chief commie trump ha licenziato il direttore delle fbi vedremo che risvolti avrà sui mercati e soprattutto sul dollaro nei prossimi giorni grazie buona giornata a tutti voi buon trading arrivederci ciao ciao Grazie.